Salve a tutti ragazzi, io sono Maruco e benvenuti in un nuovo video sul canale Torniamo sui Sims 4 e vediamo oggi la seconda parte del rinnovo della casa dei pancakes Prima di lasciare il video però vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e fammi sapere sotto in commenti che ne pensate Vi ricordo anche che avete il codice attivo Maruco su Pampling con i vostri ordini Potete acquistare scarpe, felpe, tazze, calze, t-shirt, di tutto a tema nerd Con il mio codice ragazzi avrete le calze omaggio Quindi mi raccomando passate da Pampling Detto questo però vi lascio al video e buona visione E ragazzi seconda parte del nostro rinnovo In questa seconda parte finiremo il lotto e ci occuperemo del giardino posteriore e del secondo piano Come vedete stiamo partendo proprio dal giardino posteriore Che starete notando non ha delle grandissime dimensioni Infatti c'è da fare una considerazione I lotti di default di Sims 4 sono squadrati, giganti E nel caso specifico della casa dei pancakes Pensate che loro hanno due camere da letto matrimoniali Quindi con due letti matrimoniali Enormi Davvero enormi E due bagni enormi Questo è il secondo piano E signori in realtà mi sono trovato un po' in difficoltà Perché ho dovuto ridimensionare i bagni Le camere Cercare di creare nuovi ambienti E secondo me è davvero tanto tanto grande La cosa che fa ridere è che sia io a dirvi questa cosa Perché sapete quanto io le case le faccio a giganti sui Sims 4 Ma quando è troppo è troppo E in realtà scherzi a parte Un po' mi è spiaciuto avere un giardino così piccolo e la casa così grande Ma come vi dico sempre Questa rubrica non punta a modificare la planimetria esterna Quindi tenendo le proporzioni uguali E di conseguenza il giardino uguale Ho cercato di valorizzarlo il più possibile Come vedete aggiungendo una zona piscina Una zona coperta grazie alle piattaforme E un tetto E alcune zone dove i nostri pancakes possono rilassarsi Prendere il sole Fare delle grigliate Insomma mangiare Ho cercato di mettere un po' una pezza A questo piccolissimo giardino Addirittura ho aggiunto anche delle fioriere Perché come avrete visto Ho fatto la serra interna E secondo me l'idea del giardinaggio Collegata all'abilità di cucina di Bob Secondo me ci poteva stare Per quanto riguarda invece il secondo piano Ho ridimensionato un po' tutto E poi lo vedrete E spero di aver reso giustizia a questa casa E vi dico anche che In realtà ho già paura Di quando dovremo rinnovare La casa dei Kim Spencer Lewis Se avete presente Quella casa è gigante E' vero che comunque loro sono molti di più Quindi in realtà potremo personalizzare le stanze In base agli abitanti E' vero Però anche lì secondo me ci sarà da smattare tanto Non sarà quello però il prossimo rinnovo Il prossimo rinnovo sarà un lotto comunitario Come avrete visto Questa è la terza casa Ho deciso infatti di partire con la casa vuota E rinnovarla Poi un lotto comunitario In questo caso una casa abitata E credo continuerò su questa scia Quindi in realtà non vedrete mai I due tipi di lotto uguali Li voglio un po' mettere Alternati Anche per rendere la rubrica Un po' più dinamica Se vogliamo Quindi vi dico già Che il prossimo lotto Con tutta probabilità Sarà un lotto comunitario Ma tempo al tempo Poi ci arriviamo Per quanto riguarda invece Il lotto dei Pancakes Che state vedendo ora Stiamo procedendo Con la zona esterna Ho messo alcune piantine Ho cercato di rendere abbastanza vivibile lo spazio E soprattutto Al secondo piano Ho preso in considerazione sempre L'idea della progressione Come vi ho detto Ormai su The Sims 4 Le case di default Devono avere Secondo me Tutte la possibilità Di ospitare Animali E almeno Bambini Quindi per i bambini Ragazzi In questa casa Ho deciso di mettere Un po' di cose Perché Sono sicuro che Con la progressione Elisa resterà incinta E avranno Mille mila figli E probabilmente Non basteranno neanche Le stanze Che abbiamo aggiunto Ma hey Questo passa in convento Detto ciò però Come starete notando Il retro Del giardino È quasi finito Vado ad aggiungere Due piantine Per dare un minimo di ombra Un minimo di tridimensionalità Alla casa E poi ci sposteremo Al piano superiore E vi voglio far notare Però che ho anche Allargato il portico Sul retro Per dare un minimo Di profondità E anche qua Ho messo Semplicemente Un piccolo salottino Niente di che Ho messo Il solito divano Che ho già utilizzato Sotto il portico esterno E quindi Insomma Ho cercato di dare Anche la possibilità A questi sim Di rilassarsi In varie zone Della casa Poi ovviamente Ho ripreso Tutti gli elementi strutturali Che abbiamo utilizzato Nella prima parte E quindi Per creare questo portico Ho messo le stesse colonne Ho messo le stesse scale Ho deciso anche Di cambiare Le nostre ringhiere Metterle più semplici Se vogliamo In legno bianco E spero il risultato Sia carino Insomma Ho cercato di dare Il massimo Per quanto riguarda L'esterno Della casa E poi Beh Adesso ci si diverte tutti Perché arriverò All'interno E fidatevi che mi son preso Ben due minuti A girare attorno Alle stanze Per cercare di capire Cosa dovessi fare In questo caso Ho avuto difficoltà E vi spoilerò Già una cosa La prima cosa E la prima stanza Da cui parto È il bagno Pensate un po' Come sto messo È sintomo di gravità La prima cosa Che mi viene in mente Di fare È il bagno Capiamoci Però ragazzi Vi faccio vedere Che il bagno Era gigante Vedete Ho dovuto ridimensionarlo Un po' Perché era Troppo grande Non sapevo Come riempire Le stanze Era Troppo Semplicemente Squadrato Gigante Vuoto Perché poi Le case di default Non sono neanche Tanto buildate Almeno Quindi in realtà Qua mi son dovuto Un po' Inventare tutto In questo caso Il bagnetto È diventato Più lineare Più piccolo Con la vasca La doccia E tutte le cose Del caso Quindi in realtà Ho cercato di mettere Tutte le comodità Ho aggiunto le finestre Che abbiamo aggiunto Nel nuovo rinnovo E secondo me Così è un ambiente Un po' Più credibile Pensate un po' Guardate Se state notando Praticamente Ne uscivano Due di bagni Da uno Perché erano Grandi uguali E quindi in realtà Cosa ci avrei dovuto mettere Ragazzi Là dentro In realtà La parte del bagno Che ho tagliato Diventerà un'altra stanza Che vedrete dopo E secondo me Ha più senso Che abbia utilizzato Quello spazio In quel modo lì E poi Devo anche modificare Un po' Tutte le porte Tutti gli ingressi Perché In realtà Ve lo dico Già Le camere Resteranno due Avremo la camera Matrimoniale Bella grande E avremo anche Una camera Che non sarà più Matrimoniale Ma avrà all'interno Diversi lotti Singoli Per bambini Eventuali bambini Eccetera Quindi ho cercato Di rinnovare Il tutto Anche in previsione Della progressione Della possibilità Che finalmente Eliza e Bob Mettono su una famiglia Primo bagno Praticamente Finito Ho deciso Di utilizzare I toni Del bianco Grigio E nero E poi La parte del bagno Che avevo ripreso Ho deciso di allargarla E quindi abbiamo Ottenuto una nuova stanza Vedete E poi alla fine Ho deciso di lavorare Su questa Prima camera Matrimoniale E questa Sarà la suite Matrimoniale Di Eliza e Bob Come vedete Gigante Ci sono delle librerie Messe a muzzo C'è anche Una roba Per la palestra E questo è importante Messa là Buttata là Perché è Tutto vuoto E quindi in realtà Ho deciso di buttar via tutto E qua ragazzi Però sto utilizzando Una cosa Che effettivamente Non utilizzo spesso E sono Gli armadi Di Usciamo Insieme Di solito Preferisco Poi in realtà Anche con l'aggiunta Di arredi da sogno Figurarsi Fare le cabine armadio Però effettivamente Questi oggetti Sono belli Abbiamo anche Delle interazioni Quindi mi devo Ripromettere Questo me lo metto Io come promessa Personale Di utilizzare Un po' di più Questi armadi Di Usciamo Insieme Che secondo me Sono molto carini Danno profondità E perché no Magari puoi utilizzarne uno E poi magari Fare anche la cabina armadio O utilizzare i mobiletti Classici Insomma Si può fare quello Che si vuole E' una mia mancanza Questa E quindi devo Imparare a sfruttarli Di più Per sfruttare lo spazio Poi Di questa camera Starete vedendo Sto mettendo Delle poltroncine Un tavolino Una simil scrivania Dove usare il pc Anche per dare Più profondità Alla stanza Però Già questa dimensione Mi sembra Pelino Più accettabile Rispetto a quella Di prima Che era enorme E non aveva senso Di esistere Ovviamente Come sempre Vado a giocare Con la doppia tinta La testiera del letto Bordeaux E invece Il resto Color crema Un po' più caldo E un po' più Come dire Neutro E signori La prima camera La camera Di Eliza E Bob È praticamente Finita Ho deciso di terminarla Così È una camera Sicuramente grande Direi che su questo Non ci piove Metto le tende La rendo Un po' più Accogliente E poi vado A smontare La seconda camera Come vedete Guardate un po' questa C'è un divano A muzzo In un angolo Perché Era troppo grande Anche qui Come vedete Sono riuscito In realtà A avere Due camere O meglio Ho fatto Una camera Nel corridoio Quindi Vedete Ho fatto Un ennesimo ambiente Più piccolo Ma utile Una camera Che secondo me Ha delle dimensioni Un po' più accettabili E quindi Vado a riempire Gli spazi nuovi Con delle cose importanti Per dire Questa parte Porzione della camera Vecchia È diventata Uno studio Che secondo me Serve in una famiglia Per futuri bambini Per Bob E Lisa Piccolissimo È uno studio Davvero piccolo Piccolo Però almeno Dato un perché A quella stanza Che era Troppo grande Secondo me Si andava un po' a perdere Un po' troppo dispersiva Come vedete Lo studio è pressoché finito Una libreria Una scrivania Un pc Due oggetti E passa la paura Ma almeno Ha senso desistere Adesso Mentre il resto Della camera Diventerà Come vi dicevo prima La camera Dei ragazzi Anche lì ragazzi Vi dico che ci ho messo Mille letti Per riempirla Perché era Semplicemente Troppo grande La cosa Ripeto Mi fa ridere Detta da me Soprattutto Però Questo vi fa capire Anche Quanto sia difficile Puoi personalizzare Le case di default Senza Sventrarle Senza togliere L'anima Se vogliamo La struttura principale Però Questo è lo scopo Di questa rubrica Per quanto riguarda invece Vi ricordate La parte del vecchio bagno Ho visto Che Bob Aveva la struttura Per fare pesi E quindi ho pensato Ci sta bene Perché Bob e Liza A quanto pare Amano la forma fisica Amano andare in palestra O farla a casa Quindi ho deciso Di creare Una minuscola E ripeto La parola Minuscola Palestra in casa Staccata Dalla camera da letto Quindi ho deciso Di creare Un ambiente Palestra Che secondo me È molto più credibile Invece di avere Gli attrezzi in camera In realtà no Forse avere Gli attrezzi in camera È più realistico Però mi sembrava Un po' più certosino Come lavoro E ho deciso Come vedete Di mettere due attrezzi E di cambiare un po' Le carte in tavola E quindi Nella casa dei pancakes Abbiamo Una serra coperta Uno studio Una palestra Beh diciamo Che hanno fatto i soldi Sti due sim Stiamo creando Una casa Di tutto rispetto Come vedete Siamo passati Alla camera Dei ragazzi La prima zona Come vedete Utilizza i letti a castello E ho deciso Di mettere Una scrivania sotto E quindi Letto a castello sopra Scrivania sotto Secondo letto Dall'altra parte Quindi in realtà Possono avere Tanti figli E vista la progressione Succederà Non ho nessun dubbio A riguardo E poi in realtà Ho messo alcuni giochi Ho messo il lettino Dei toddler Perché appunto Volevo anche Che la casa Fosse pronta Ad accogliere Un toddlerino E come vedete Questa stanza È pressoché Strana Perché è una sorta Di corridoio Strambo Ma ho cercato Di renderla Quanto più credibile Possibile E oltre quella porta Avete visto C'è un bagno Giga enorme Per rimarcare Il fatto che Questa casa Era tutta camere Tutte bagni E Non c'era niente Da fare Dovevamo solo Giocare con queste robe qua Infatti Per riempire la camera Ho messo anche Dei giocattoli Delle zone Per i vestiti Ho cercato Di personalizzare Un po' Con dei dettaglietti Quindi lo zaino Anche dei peluche Eccetera Ho cercato Di far capire Che questa Era la camera Dei ragazzi Spero di esserci riuscito E ripeto ragazzi Quando Sandra Dai Kim Spencer Lewis La si piange Io vi dico già Che piangerò Perché non saprò davvero Dove metterci le mani Però Ci proveremo Ci proveremo E cercheremo di dare Un'anima nuova Anche a quella casa Al momento Ci accontentiamo Di quella dei pancakes Che spero ragazzi Vi stia piacendo Nel rinnovo Io Ce l'ho messa tutta Per cercare di rinnovarla E spero Nel mio piccolo Di aver dato un senso Alla casa L'esterno È un po' diverso L'interno È diverso Sì Ma comunque Abbastanza Simile Alla piantina Che avevamo prima Spero sia diventata Una casa Vivibile Carina Per i nostri sim Carte da parati Pavimenti messi Andiamo a fare poi A breve L'ultimo bagno Qua invece però Ho voluto anche mettere E giocare un po' Con la carta da parati Un po' più infantile Se vogliamo E qua ragazzi C'è lui L'ultimo bagno Bagnetto Piccolo Che secondo me Va anche bene Questo Rispetto alle altre camere Ha comunque una dimensione Decisamente più accettabile Rispetto agli altri E quindi qua ho deciso di mettere La vasca Con la balena Ho deciso di utilizzare I toni del bianco E l'azzurro Per questo bagno Quindi in realtà L'azzurro Lo vedrete Si ripeterà Molto molto spesso Mentre metto Mentre metto il mobilio Metto giustamente anche Tutte le cose Gli oggettini da bagno La vasca La doccia Per la doccia Ho messo anche Una finestra Per creare Un simil vetro Insomma Ho cercato di Renderlo Più particolare Sicuramente un po' Più infantile Questo bagno Perché doveva essere Il bagno dei ragazzi Quindi come vedete Anche lo specchio Non è troppo serio Volevo che appunto Fosse capibile Che si trattava Del bagno dei ragazzi In realtà poi Facendo due robette Ci sono anche riuscito Ho messo anche il vc Per i toddler Ho messo un cestinetto Un bel tappetino E ragazzi Anche questo bagno È praticamente Finito E alla fine Dai ce la siamo cavata Bene o male Abbiamo dato Un qualcosa Di utilizzabile Ai nostri pancakes Prima era davvero Forse troppo anonima Questa casa E serviva A uno svecchiamento Ma Ehi ragazzi È una casa Che ha otto anni E quindi in realtà Ci sta anche Giustamente E rinnovarlo Come vedete Vado a terminare Il corridoio superiore Niente di troppo complicato Anche qui ragazzi Vado semplicemente A mettere due quadretti Un fiorellino Per cercare di Far vedere il passaggio Senza Aggiungere troppe cose Ne riempirlo Anche perché È una zona di passaggio Non volevo che i sim Si intersecassero troppo Decido anche Di togliere Poi una porzione di muro E mettere una balaustra Di legno Così almeno Sembra anche un po' più grande La zona superiore E per il resto Ragazzi Questa è La casa Dei pancakes Siamo partiti Da una casa Sicuramente Datata E è giusto Che sia così Una casa Particolare Se vogliamo Molto squadrata Io nel mio piccolo Ho cercato Di renderla Più dinamica Sia nell'esterno Che nell'interno Cercando di renderla Più attuale Ditemi voi Ovviamente nei commenti Se ci sono riuscito Prossima missione Lotto comunitario E ragazzi Non vedo l'ora Di cominciare Per questo video Però Io vi dico che è tutto Vi lascio alcuni screen Del prima e il dopo Vi ringrazio Per essere arrivati Fino a questo punto Vi ricordo di lasciare un mi piace Se il video vi è piaciuto E a questo punto Vi dico Che ci vediamo Alla prossima E ciao a tutti Ciao a tutti